Convertire le lane di scarto in fertilizzante che può essere di grande aiuto alle fattorie che si vedono costrette a buttare il materiale dopo la tosatura, farlo in modo che il processo sia verde, ovvero poco costoso e non preveda l'uso di additivi chimici. È il progetto Green Wolf che vede capofila il CNR ISMAC di Biella con il Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia e la società OBM SPA. L'Università Torinese è coinvolta per le operazioni di produzione con unità pilota e processi su piccola scala. Il progetto è iniziato teoricamente il primo luglio, poi in realtà con un attimo di messa in avvio di un mese e le ferie è partito il primo settembre, ci siamo mossi immediatamente per incominciare a definire quelli che si chiamano bilanci di materia e di energia che sono le caratteristiche essenziali di un processo. Tutte queste valutazioni quantitative devono essere coerenti con determinate apparecchiature in ciascuna delle quali avvengono le fasi di processo, a partire dall'ingresso della materia prima alla valutazione ipotetica del prodotto, agli stream, cioè alle emissioni più o meno facili da gestire. La lana pone una serie di problemi di uso, precisa il professor Rovero. Il problema della lana è abbastanza particolare, nel senso che parlando di lana bisogna distinguere di quale lana si parla. La lana finissima ovviamente ha un valore di mercato notevole come materia prima per i materiali tessili, mentre la lana comune in questi anni è passata da essere utilizzata come materia di supporto dei materassi ad una situazione dove in realtà è uno scarto, un sottoprodotto della produzione o dell'allevamento vino, per cui bisogna trovare una destinazione possibilmente alternativa alla discarica. Nel primo impianto prodotto a Biella verranno effettuati i test di processo al Politecnico. In questo primo impianto di laboratorio verranno quindi condotte delle prove andando a considerare varie condizioni operative al fine di ottimizzare la reazione chimica. Verrà trattato sostanzialmente un chilo di lana per volta e appunto si andranno a studiare tutte le varie combinazioni per ottenere il prodotto finito. Una volta effettuate tutta una serie di test per definire quali sono quelle ottimali per il processo finale, verrà quindi realizzato una unità dimostrativa, unità dimostrativa che potrà lavorare in continuo con un quantitativo di lana nettamente superiore, parliamo di circa 1000 kg giorno, una unità che potrà essere montata, un'unità mobile, che pertanto potrà essere portata in varie zone regionali d'Italia e anche d'Europa per poter dimostrare e poter appunto mostrare i risultati che otterremo.